Ciao a tutti, oggi vi presento l'applicazione ClassMill Allora intanto scriviamo su Google il nome dell'applicazione Come potete vedere possiamo trovare molto facilmente l'applicazione Ecco così si presenta ClassMill, è un'applicazione gratuita con la quale possiamo creare dei classi online Per poi poter effettuare dei veri e propri corsi e lezioni multimediali online Come potete vedere qui a sinistra possiamo registrarci con il proprio account Facebook O con la nostra email, inserendo i propri dati personali Se ci siamo già registrati in precedenza possiamo direttamente accedere tramite login Qui possiamo accedere o con Facebook o con la nostra email Io essendo già registrato accederò adesso con la mia email Inserendo anche la mia password Ecco, e così si presenta un account appena creato di ClassMill Se vogliamo iniziare a creare le nostre classi e lezioni online Andiamo qui in alto a destra su Create Class E qui inseriamo il titolo della classe Una descrizione E poi selezionando la categoria di appartenenza Tra quelle proposte Infine selezionando se la classe sarà aperta e disponibile a tutti O si potrà accedere solo tramite invito Infine quando abbiamo compilato tutto Clicchiamo su Create e la classe sarà pronta Se invece vogliamo vedere i prodotti condivisi dagli altri utenti Andiamo qui in alto a destra su Explore E qui vediamo già in anteprima un paio di elementi condivisi dagli altri utenti Scegliamone una a caso per vedere un esempio Qui c'è scritto il titolo Il nome dell'autore E vediamo che questa classe è libera e aperta a tutti Qui possiamo leggere l'introduzione di questo argomento Sotto ci sono i vari moduli Che li ha legati l'utente Ovvero l'autore di questo argomento E qui si può leggere vari link Immagini, video e altri documenti Poi possiamo il tutto condividere su vari social network Come Facebook o Twitter O su LinkedIn O anche tramite email Poi possiamo aderire a certe discussioni Magari già create dagli vari utenti Cliccando su una discussione già creata E magari scrivendo il proprio commento E infine cliccando su Reply O altrimenti se vogliamo creare una nuova discussione Clicchiamo qui su New E creiamo una discussione nuova Inserendo il titolo della discussione E qui sotto inserendo i propri pensieri O quello che vogliamo discutere Infine clicchiamo su Create Discussion E poi questa verrà pubblicata Ecco Come avete visto Questa è Classmail L'uso di questa applicazione è molto semplice E molto utile per i professori e docenti Di varie scuole e università Per interagire con i propri studenti Riguardo a vari argomenti Creando classi e lezioni multimediali Di qualsiasi genere Grazie a tutti